In collaborazione con Edimedia Communication, l'arte della comunicazione Upstyle, l'originale magazine di Milano Marittima Ed eccoci qui in questa nostra nuovissima puntata di GoFlort Questa sera ci troviamo come vedete davanti all'hotel Elvezia Uno degli hotel veramente più divertenti di Milano Marittima Ma intanto Mac vedo che danza, ma perché? Perché forse c'è un DJ set particolare? C'è il ritmo, gira i dischi per noi, Patrick è pugliese Quindi questa sera andremo nel cuore della nostra super location Insieme anche a Manal Ciao Ecco Manal tra l'altro dovete sapere, GoFlort, terra di single La nostra Manal cerca l'anima gemella Insomma l'ho appena trovata Sono io? Che bello! Però lasciamo l'Instagram di Manal Manal Fox Contattatela Noi ci gustiamo una serata veramente divertente insieme a voi Andiamo! E andiamo a vedere come prosegue la serata qui all'Elvezia ragazzi E siamo con due ragazzi scatenati Ossia Alessandro Alessandro e Tommaso Allora loro sono un po' il fulcro dell'Elvezia perché lavorano qua Però stasera si stanno anche divertendo Com'è la serata? Come sta andando la stagione? Da Dio è bellissimo qua Qua è bellissimo E per te? Qua almeno si sta in pace, sereni Vieni qua all'hotel Elvezia Ti rilassi in divertimento così con la musica ed è il top E' vero Ci sono anche tantissime belle ragazze Che poi andremo ad intervistare I bei fusti per le ragazze Non mancano Quindi che dire L'hotel Elvezia è il top Vai ragazzi Iniziano le nostre interviste riverenti in quel dell'hotel Elvezia Mentre Patrick Ray Pugliese suona i suoi dischi Mi accompagna una damigella d'onore Questa sera la nostra Alessia Vieni con me Andiamo Ed eccoci qua Nella lounge bar dell'hotel Elvezia Dove si stanno già facendo delle chiacchiere Siamo con Suki Ciao ragazzi Allora Cosa state bevendo questa sera? Stiamo bevendo un calice di vino Ecco ma la serata è aggressiva vedo Abbastanza aggressiva L'hotel Elvezia è sempre una scoperta Ecco Musica di Patrick Tutto bello Molto bravo Patrick Complimenti E abbiamo anche una nostra famosa fashion design La nostra Nora Piacere Allora Nora Si stai divertendo? Sì sì molto Qual è la cosa che ti piace di più dell'hotel Elvezia? Atmosfera Atmosfera è vero Con queste candele Candele, vino, musica È perfetto È perfetto per passare una bella serata Ma non solo belle donne ma anche degli uomini Eccoci qua Siamo con Luca da Verona Esatto Allora com'è questa serata all'hotel Elvezia? È molto bella Al momento è anche divertente Divertente Speriamo proseguiamo bene La musica di Patrick Molto bella Ecco Sabrina Ha un'organizzazione delle sue serate veramente bella Molto molto Infatti mi sto divertendo E speriamo che la serata vada avanti ancora per molto Bene Noi vi auguriamo una grandissima serata Un buon proseguo di serata In questa veramente cerimonia di San Lorenzo Possiamo dire Marchiata Hotel Elvezia Siamo qui a Milano Marittima con Antonello che è in vacanza Sì sì in vacanza Sì Sì stiamo divertendo con Patrick Ray Pugliese Lo conoscevi come DJ Grande serata No come DJ non lo conoscevo Però molto bravo Grazie mille Grande Allora Sei single Sì Mi sa che è single perché una ragazza si è appena allontanata Si è appena spostata ma va bene così Allora se la ragazza si sposta tu puoi dare il tuo Instagram per GoFlirt Ah non so Eliasoni E sempre dall'Hotel Elvezia Dalla musica di Patrick Ray Pugliese Siamo con Madame Che ha fatto jet ski No come ti chiami? Ciao sono Roberta Ho appena fatto jet ski Per questo mi vedete col cappellino Questo è un posto super chic Non mi si addice Però ci somiglia un po' a Madame Un pochino sì Diciamo l'unghia del piede Dell'alluce è probabile Da dove vieni Roberta? Da Bari Ok ma abbiamo un'altra persona qui da Bari Che è venuta all'Hotel Elvezia Perché è rimasta colpita un attimo dalla musica E da Patrick probabilmente Ti stai divertendo Come ti chiami? Certo mi chiamo Gianluca Mongelli Da Bari Ok è la prima volta a Milano Marittima? Sì Ok come la trovi? È molto interessante come città È anche di Movida È molto divertente Ok sei stato alpineta, papete? No non ancora Volevo andare ma Ce l'hanno chiusa Al momento che siamo arrivati qui Va bene Tagliamo questa cosa che è molto triste E andiamo avanti con GoFler Come ti chiami tu? Io mi chiamo Alessandra Ok Alessandra sei sempre Sono sua sorella Siamo sorella Ma dai Abbiamo qui due sorelle Come mai l'Hotel Elvezia passavate di qua? Sì ci siamo Ci ha colpito Perché abbiamo parcheggiato la macchina di fronte E abbiamo deciso di venire qui a bere Conoscevate Patrick Repugliese? Sì sì Di vista Vi state divertendo? Tantissimo Il posto è meraviglioso Soprattutto la proprietaria è squisita Stupenda Grande Sabrina Continuiamo il giro di GoFler E grazie a voi A presto Ok siamo sempre all'Hotel Elvezia Hotel Elvezia con Emilia E tu come ti chiami? Alessandra Tu? Eleonora E? Alessia Ok Quante di voi sono single? Io La metà La metà La metà Due sono single Sta a voi indovinare chi è single a questo tavolo Ok avete cinque secondi Cinque Quattro Tre Due Uno Sbagliato Lei è single? Io sono single da tre mesi Da tre mesi Mi ha mollata Chi è che ti ha mollata perché? Ero troppo disordinata Troppo disordinata In che segno sei? Bilancia Ok da dove vieni? Napoli ma vivo a Milano Dove vorresti andare? A Spagna Ok Allora adesso per lei noi troveremo un altro uomo Un uomo ideale tramite Instagram Qual è il tuo Instagram? Emilia Rega trattino basso Mi raccomando Vi aspetto numerosi Contattate 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 Grazie Può dire qualcosa? Niente Basta che non sei un caso umano Sono tutti accetti No drama No drama Ma quanto è bello il bancone dell'hotel Elvezia Qua vengono prodotti centinaia di cocktail tutte le sere E a pensarci nello staff e anche la nostra Flavia Allora Flavia come ci stai facendo di buono? Ho fatto un gin tonic con un tankery Ok quindi Una cosa estiva Bello fresco Una cosa estiva Un buon drink da bere a Milano Marittima Bene Esatto Esatto Ma questa serata con un DJ set così particolare Cosa ci dice riguardo? Dico che è una bellissima serata Che avevamo voglia di stare un po' bene Di divertirci Di essere un pochino liberi Sempre con le giuste restrizioni che ci vogliono E oggi è San Lorenzo ragazzi Guardate che stelle che ha negli occhi la nostra Flavia Complimenti Io mi porto via il Moï Il G Tonic scusa E buona continuazione di serata Ok Come ti chiami? Alessia Quanto single sei? Da un anno Una perché? Non so neanche io Ok Ok Qual è il tuo uomo ideaglio? Scusa? Non stronzo Con le palle magari Uno stronzo con le palle Grande Applausone Standing ovation Qual è il tuo Instagrammo? Ale Gjargi Scusa? Ale Gjargi Ale da Un pezzo del mio nome Un pezzo del mio cognome Dardi Giardi 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 Giorgi Giorgi Ah Giorgi Ale Giorgi 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 Fai lo spelling Genova Imola Ancona Roma Genova Imola Bravissima Adesso computa la stessa parola al contrario Ok Imola Genova Roma Ancona Genova Abbiamo interrotto un attimino il nostro Patrick Ray Pugliese Che sta mettendo dei brani veramente che stanno facendo spaccare tutto il pubblico dell'Elvezia Allora un grande aficionados dell'hotel Elvezia è proprio il nostro Patrick Ray Pugliese che oggi oltre a mettere i dischi è proprio ospite qui all'hotel Elvezia Allora un connubio tra te e Sabrina veramente straordinario Sì perché l'hotel Elvezia si trova proprio in centro Milano Marittima si appoggia poi alle attività di divertimento più famose della costa dal papete al pineta e via discorrendo Quindi Sabrina che è un'amica ha organizzato proprio Questo DJ set Tutta la struttura per fare musica durante la cena quindi musica chiaramente più lounge più di più di compagnia E stiamo facendo festa quindi io devo dire che mi piace sempre questa esperienza da DJ quindi sono felice di far festa con Sabrina E con tutti gli amici anche anzi la famiglia dell'hotel Elvezia Sembra di stare a casa siamo noi Siamo veramente a casa tra l'altro questa console poi ce la porteremo proprio a casa perché è bellissima Sì devo dire che ce la possiamo portare a casa anche il mobile davanti che è utile Ecco quindi Patrick Ray Pugliese Possiamo usare a GoTV per Patrickamente Show È vero è vero Tra l'altro Patrick Ray Pugliese che troverete a Milano Marittima all'hotel Elvezia fino al 16 Sì ma tutta l'estate siamo Tutta l'estate quindi venite prenotate una bella camera qui all'hotel Elvezia ci si diverte veramente tantissimo Patrick a te la console a te la musica e facci divertire Grazie Ricci grazie a tutti quanti Ciao amici E mentre Patrick Ray Pugliese mette questo pezzo bellissimo siamo con il nostro Nicola Allora Nicola sta sorseggiando un gillemon si sta divertendo la grana anche lui Addio perfetto Allora tra l'altro da quello che ho saputo Nicola alloggia proprio l'hotel Elvezia da anni Quindi siccome sei un... Vivo qua Esatto sei un affessionato Certamente della Sabri fantastica Esatto Tre parole per descrivere l'hotel Elvezia Fantastico sublime eccezionale E allora venite tutti all'hotel Elvezia Coming back in Mima Oh yes Ladies and gentlemen siamo qui con la regina dell'hotel Elvezia Sabrina un volto conosciutissimo qui a Milano Marittima Allora Sabri questa sera abbiamo organizzato qualcosa di eccellente con GoTV insieme a te dell'hotel Elvezia con un Patrick Ray Pugliese veramente alla console che sta regalando emozioni Ma allora Sabrina un hotel Elvezia che è sempre sulla Cresta dell'Onda anche quest'anno anche in questa stagione stai facendo veramente il tutto esaurito E quindi cosa devo fare? Quindi adesso vi dico dove devo guardare? Allora ragazzi allora questo è una casa è la nostra casa È una famiglia È una famiglia Vi aspettiamo qua all'hotel Elvezia Quali sono i servizi che può offrire l'hotel Elvezia? Allora assolutamente tutto per i ragazzi da tutto quello che sono le discoteche, tutti quei programmi che ci sono Lo sapete che io non parlo bene l'italiano quindi non ho petto le palle Esatto perché è Elvetica Ah parliamo agli svizzeri Esatto Dove siete finiti? E fatti dove sono finiti gli svizzeri? Ma tornate qui a Milano Marittima all'hotel Elvezia Già è un onore venire qui e chi viene qui si trova come a casa E quindi io mi siedo e mi tolgo le scarpe Questo è il mood dell'hotel Elvezia Questo è il mood, questo è il mio mood Chi non è nel nostro mood può stare a casa Esatto Però veramente qua ci si diverte Abbiamo persone bellissime come ho avuto la fortuna di incontrare Patrick, la Sara Questo qua Quella lì È un anno particolare per tutti Bisogna mettercela un po' a tutta Esatto Per andare avanti E io vi dico Se venite qua secondo me sul divanetto dell'amore È vero, perché dovete sapere che Sabri ha creato il divanetto dell'amicizia Qui anche se non sei dell'hotel puoi fermarti per bere qualcosa o semplicemente per fare due chiacchiere Perché veramente Sabrina è così È come la vedete, veramente genuina, alla mano È uno spettacolo E la gente la ama e per questo che l'hotel Elvezia fa la differenza Qui a Milano Marittima In collaborazione con E di Media Communication L'arte della comunicazione Upstyle L'originale magazine di Milano Marittima